Ok ragazzi, prima che questo video cominci devo assolutamente dirvi una cosa perché l'ultima registrazione, quella dell'episodio 3 della Let's Play, è andata a fanculo e perché lo Slenderman, paura eh, è entrato nel video infatti guardate, più o meno all'ottavo minuto di registrazione non so perché Camtasia probabilmente ha fanculato qualcosa e così il video diventa così molto dopo dei Cobalt, quindi non so se è una cosa del pacchetto che la Cobalt, cioè la vita è molto più alta dei Cobalt o altro, eh vedete e da qui il video è tutto così fino alla fine io non so cosa farci, io non so che cosa sia successo questa è la registrazione proprio grezza ancora da editare completamente quella che viene fuori appena finito di registrare quindi io non so che cosa sia successo, sia il microfono, spero di no perché non lo so, non so cosa sia successo ad ogni modo ora vado a registrare il vero terzo episodio che sarebbe il quarto, però è il terzo perché il terzo è andato a fanculo vi farò vedere anche nel video, pian piano, tutte le cose che ho fatto nel terzo episodio che è andato a perduto e niente vado a registrare INTRO Ciao a tutti ragazzi, io sono MerloCraft e oggi siamo qui nel terzo quarto episodio della mia let's play moddato e oggi siamo qui lontani da casa in cerca di un villaggio perché ho bisogno di una cosa che si trova solo nei villaggi della Tinkers Construct Poi appena sono a casa vi faccio vedere tutto quello che abbiamo fatto che non ho potuto registrare nello scorso episodio perché come avete appena visto insomma non sono proprio riuscito Allora innanzitutto prendo questa smelterie perché fa sempre comodo Ok perfetto perché sono praticamente Seared Bricks gratis quindi è sempre meglio averceli e poi vediamo di risalire e di prendere anche questi che sono sempre gratis prendere questo tu sei un villaggio lì della Towncraft occhio e cerchiamo una casa alla Tinker anche se non mi sarei di vederne sebbene ci fosse lo smelterie potrebbe essere una sfortuna qui non c'è questa è una torrella Towncraft quindi la luttiamo Give me the torch, bitch qui trovo che c'è una cesta al secondo piano esattamente sta lagando un po' il mondo scusatemi ma è perché sto sto generando il terreno adesso perché insomma mi sono spostato in un posto nuovo e quindi sì insomma questa no è una casa della witchery lì c'è un biome della Town no lì ci sono due alberi di grate no sembra non esserci una Tinker's House qui almeno che questa non sia una Tinker's House ma non mi sembra esattamente quindi intanto prenderò i books dia buono prendiamo i libri non ho una scia con me sì ce la devo avere qui gotta love this per il resto dall'ultima registrazione insomma dall'ultimo episodio a questo c'è stato un aggiornamento del mod pack 1.0.4 quindi GG a Diewolf abbiamo un pacchetto più aggiornato e possiamo fare tante cose belle bl 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 quindi se andrò a cercare un altro villaggio sto usando un programma su internet che mi dice dove sono ehi ct e ci rivediamo quando lo trovo e poi ci rivediamo a casa e vi spiego cosa ho fatto nell'episodio perso e poi vi spiego i programmi per oggi boom guardate questo biome ma comunque che figo ci starebbe tantissimo fare una casa qua però non mi piace questa crag rock questa questa specie di cobblestone stramba beh e siamo in prossimità di un altro villaggio già vedo qua una casa tipo nascosta che ha lutto e quindi vediamo di rubare questa casa per prima perché poi me la dimentico oh popopo vediamo block of steel questo è buono taumium che è null'altro di buono eeeh fio dalle baule andiamo di salire qui c'è una roba della railcraft e abbiamo uh uh advanced rail wooden tire reinforced rail coal coke coal absolutely poi prenderò anche questo e questo because why not qui c'è una cacciata da forestry ci sono prove in frame prendete in frame no no ok wow deadlug spike stiamo proprio generando il mondo oh ma io ho un cuore ho un cuore ho un cuore ho un cuore wait 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 rimorfat in la formacchia più cuori bush me l'ho dimenticato che in bat sia solo tre cuori one shot bitch allora a parte che molti di voi potrebbero già aver capito una casa della tinker il motivo per cui sono qui perché è piuttosto ovvio se conoscete un po' la tinker oh gg sono in cerca di una pattern specifica che si può trovare solo qui chi è? non c'è chi è? non c'è gg sembra che dovrò andare ancora allora io ospiterò che trascorra la notte qui anzi farò una cosa ancora più intelligente prenderò questa lana osservate la creatività oh crafting station ci sono cose però non c'è quello che cerco purtroppo quindi anche qui non c'è quello che cerco wait che lo cerco questo qui voglio una full guard e molti di voi avranno già capito perché però non c'è allora guardate che cosa intelligente che faccio togliamo tutta questa merda dalla crafting station che non mi serve quindi doppiamola tutta per terra e con questa wool ci craftiamo dei tappeti e poi se non sbaglio la crafting è così così ci serve un tappeto in più sbammete e dovremmo poterla craftare sleeping bag gg questa sarà un'amica preziosa facciamo così do you sleep on that? si there are monsters nearby ah devo uccidere i mostri che ci sono qui vicino a quanto pare e dopo che li ero uccidere possiamo dormire al fly boom super sleep è un letto super bordatile non ci resetterà lo spawn adesso è giorno possiamo riporre la nostra sleeping bag nella nostra oggetti bag e siamo a posto quindi io cercherò un altro villaggio con un'altra casa della tinker con degli altri cose sperando in una full guard perché la spada che ho adesso va bene però mi piacerebbe avere una e non mi ricordo come si chiama al momento comunque una spada che si può creare solo con la full guard che è una pattern speciale che si può trovare solo nei villaggi della tinker quindi sì del resto dell'ultimo episodio ho gridato anche queste cose ma quindi adesso sono super speedy uh ragazzi c'è una slime 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 asland insomma c'è un'isola di slime che potrebbe rivelarsi molto utile per i nostri progetti full buffy perché se noi tagliamo il tronco qui che credo si possa tagliare con un piccone non vorrei dire inchiate però dovrebbe essere il piccone lo strumento giusto quanto pare la spada wow 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 don't touch me bitch questo ci darà del congelated slime che potrà essere farmato come un vero albero e il congelated slime ci potrà dare i sapling e i sapling potranno essere ripiantati e con questo noi ci facciamo le slime ball oh non provare a toccarmi let's see another village scendiamo e speriamo che questa volta sia la volta buona anche se non vedo nemmeno una casa della tinker oh dai ragazzi su serio non ce n'è neanche una beh sprofittiamone per prendere le carote e le patate caroze and potatos potatos ce ne sono potatos sweet 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 caroze non hanno neanche patate questi villager vergogna ah che vergogna che vergogna questi villager andiamo esploro un attimo più da vicino ma non ne ho visto neanche una perché sono quelle col tutto piatto e con le fence quindi oh wow wow fill that lug un'altra smeltery mi stiamo facendo seared bricks come dei cani quindi possiamo fare una smeltery tipo gigante che probabilmente è quello che faremo però non c'è ancora nulla qui un albero della towncraft dungeonoso adventure time questo episodio e vediamo qui dentro spawner break the spawner division sigil assolutamente ma prendiamo tutto e si fotte vediamo nella nostra treasure bug cosa c'era boom gold coin interessante è una pozione di poison che non mi interessa ok ragazzi ci stiamo avvicinando a un altro villaggio potete vederlo lì sulla mappa guardate tutta la strada che ho fatto siamo partiti da e da casa nostra che è più o meno qui qui questa è casa nostra vedete ops questa è casa nostra abbiamo fatto tutto questo percorso qua fino ad arrivare a questo villaggio qua poi siamo andati tutto in su arrivare a questo villaggio qua poi siamo andati tutto in giù arrivare a questo villaggio qua adesso siamo tutto in giù qua fino ad arrivare a questo villaggio qua e spero che qui ci sia perché se no veramente io mi arrendo lì c'è una casa della tinker vediamo se ci sono delle full guard magari prima dormiamo prima che spawno 10 miliardi di mob quindi qua ho dovuto mettere tutto lì perché mi stava riempendo l'inventario quindi e slip 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 perfetto e scendiamo a vedere se c'è una tinker cosa no è tutto in ordine che strano e pistone crafting table obsidian crossbar stone shower bronze iron e la madonna full guard full guard full guard full guard full guard non ve le prendo tutte non me ne ho fatto un cane allora direi che abbiamo leggermente raggiunto il nostro obiettivo ce ne erano proprio giusto due tre e quindi possiamo finalmente tornare a casa questo villaggio ha un capello fantastico lo voglio non fa creare e questo però lo voglio tu devi darmi your hat quindi torniamo at home e perché tu stai morando a very flux saint probabilmente e vediamo di farci qualcosa con questo casino che abbiamo fatto per prendere queste pattern perché e vi faccio vedere anche quello che abbiamo fatto negli scorsi episodi e finalmente cominciamo l'episodio dopo dieci minuti di introduzione fuck yeah and we are back siamo tornati a casa siamo tornati a casa allora ecco cosa vi ho fatto nell'episodio perduto allora ho creato appunto questi strumenti che ho qui potete vedere cobalt hammer merlo hammer merlo sword merlo pick che pensavo fossero i nostri strumenti definitivi per tutta la serie e però la merlo sword ho deciso di cambiarle ed è per questo che abbiamo fatto tutta questa cosa e li abbiamo gridati al massimo quindi questo adesso toglie e 18 quor 18 damage questo scava in una maniera absurda devo ancora finire di abbrirlo con i lapislazzi ma è già fortuna 3 quindi non ne vedo il motivo e questo scava in una maniera tipo assolutamente abnorme e abveloce e poi abbiamo fatto un bel po' di mining allora abbiamo inoltre imparato sulla tinker's construct sul manilum allora vediamo di upgradeare questa smelter tipo con 10 miliardi di bricks perché we have it e allora bat mode activated vabbè quello può star lì e look at this picture guardate che roba ragazzi cioè quello che noi siamo che usciamo a fare fuori dalle palle tu e boom old smelteri look at this ok questo è stupendo allora vediamo quanto abbiamo ancora abbiamo 8 cobalt un po' di copera abbiamo un sacco di materiali però voglio del manilum insomma questa spada non la useremo più teoricamente teoricamente possiamo rifonderla no non possiamo quindi ci serve dell'ardite che però so che abbiamo qui sopra per ricreare del manilum perché ora vi spiego la storia triste di questa spada riposo in faccia intanto mi svuoto lì ok allora questa spada è una longsword è what perché ho i miei boot qui non li avevo ok abbiamo craftato che questi boot comunque off camera c'è nello scorso episodio che ci fanno fare questo che è una cosa che adoro ovvero look at this fush fush up in step assist possiamo salire in blocco senza saltare è una cosa inutile però adoro farla allora questa spada è una longsword questa spada qui dov'è longsword che praticamente è una spada che toglie abbastanza cuori e in più se noi facciamo così facciamo così è abbastanza figa come spada però cioè non ero troppissimo convinto e infatti se adesso ho giotto anche tutta questa cosa da svuotarmi l'inventario giusto 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 dicevo possiamo rimettere la spada qui nel nostro tools nei nostri strumenti che ci portiamo sempre dietro tra il resto ho fatto anche questo zainetto vedete è questo qui che è comodissimo infatti che possiamo togliercelo andare in giro non avrecelo più poi rimettercelo e tutte le cose resteranno qui dentro bam ma a parte quello è comodissimo comodissimo e la spada non ero tanto convinto allora questa full guard si può usare per creare una full guard you don't say e questa full guard può essere utilizzata con dell'alluminum brass per creare la pattern comunque la solita cosa la tinker sconstruct e quindi possiamo creare una spada molto più figa con gli stessi pezzi dell'altra spada che avevamo però con questa full guard quindi questa può anche morire perché con la nostra full guard la facciamo di ossidiana se ne abbiamo ancora obsidian certo che ne abbiamo ancora ggwp voilà e poi per il resto voglio il materiale più expensive possibile ovvero il materiale più difficile da reperire che però è anche fantastico per una spada boom creeper plant seed speech allora allora sto un po' guardando le sword blade pattern e quella che volevo utilizzare inizialmente era il manilium che adesso ho perso di vista eccolo qui vedete che ad attacco di base sono due cuori che poi ovviamente combinati con tutta la spada eccetera diventano tipo 18.000 cuori però vabbè avevo trovato anche questo questo platinum che è 2,5 cuori che è migliore il platinum è anche più facile da fare del manilium infatti si crea con semplicemente uno shiny ore prendiamo anche un arnita perché voglio comunque del manilium e quindi ho deciso di creare la mia spada con lo shiny quindi il platinum per come spada quindi come sword blade pattern adesso vediamo se lo trovo eccolo qua l'avevamo fatto lo scorso episodio quindi so di avercelo insomma ecco e lo usiamo con il platinum boom pitch please platinum sword blade e poi utilizziamo l'ossidiana che abbiamo già e il manilium che si formerà qui dentro fra due secondi che si combinerà i clargite col cobalt eccolo qua manilium faremo la nostra full no non la nostra full guard ma la nostra tool rod credo che serva una tool rod voglio tornare a vedere perché non voglio sprecare del manilium perché insomma manilium è sempre manilium e longsword si tool rod voilà facciamo una nostra tool rod tool rod tool rod diamocene tool rod diamoci col manilium e adesso vi spiego anche il perché della mia scelta e questa sarà la spada definitiva allora ho usato il manilium per questo perché dà più durabilità l'ossidiana per il la cosa insomma per la la full guard perché dà ancora più durabilità e poi infine il platinum perché come abbiamo già visto fa più danno del manilium quindi bam ecco la nostra platinum cutlass e la chiameremo merlo sword boom vedete che di base ha nuove cuori e allora se noi faremo ups 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 intanto ha più attacco dell'altra della nostra spada questa perché questa di base mi pare che ne aveva di meno insomma e ecco poi se noi continuiamo ah la difesa che l'altra non aveva invece che lo sprint in avanti che secondo me è inutile e poi se noi continuiamo a far così in teoria dovrebbe darci il bonus speed 2 adesso non so se ho letto bene però correzione dopo che noi bloccheremo un attacco da un danno insomma adesso andiamo a provarlo subito c'è un mob qui fuori come vedete quando servono non ci sono mai giustamente anche dico io e mobs 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 eccoli dopo che io bloccherò un attacco a questo ragazzo otterremo speed 2 per 5 secondi adesso non so se siete riusciti a vederlo ad ogni modo eravamo più veloci per 5 secondi adesso non posso farvelo di vedere di nuovo perché se no questo qua mi uccide però adesso io uccido lui e questa sword già così è abbastanza fantastica di suo però andiamo ad upgradearla ancora di più perché a noi piace upgrade e voglio mettere su di questa spada un quantitativo un sano di nether quartz perché il nether quartz è quello che dà più damage più danno bitch quindi mettiamo tutto il nether quartz dell'universo intorno a questa spada bam e vedete che siamo a soli 167 su 216 quarti e siamo già a 16 contro il 18 di questa ma maxata quindi adesso io vado nel nether finisco il nether quartz e poi vediamo che altri modificatori aggiungere ai nostri strumenti e gli ultimi strumenti della nostra tinkers construct quali saranno perché entro la fine di questo episodio voglio ottenere tutti gli strumenti della tinkers construct che mi serviranno per una buona cosa quindi una pala una cosa del genere upgradarli e quindi entro la fine di questi 30 minuti avere un step up tinkeroso perfetto ecco perfetto quindi non mai essere un bat ma un blade in the nether bitch please back in a moment giusto per dimostrazione questo piccone ha upgradato completamente anche fortune fortune 3 insomma quindi stiamo ottenendo già un sacco di nether quartz da un solo giacimento ne ho preso 33 quindi capiamoci guardate a che velocità spacca la netherrack fuck yeah per il resto nell'ultimo episodio una cosa che non vi ho detto che è andata perduta è che abbiamo creato il nostro traveler's glove che è questa cosa qui che poi si è upgradata anche lei come gli strumenti e noi l'abbiamo upgradata con haste quindi con la redstone quindi con la velocità per i nostri strumenti e questo praticamente ci dà in modo di avere mi sembra tre slot aggiuntivi insomma che possiamo mettere sul nostro caso quindi tutti i nostri strumenti sono affetti da quelle tre cose in più quindi questo mi sembra che abbiamo messo tre set di redstone tre set da 50 di redstone è come se ne avesse sei quindi ggvp ok sono riuscito a prendere abbastanza nether quartz adesso però voglio anche del cobaltone perché mi servirà per dopo questo episodio e come creare il cobalto se non con del branch fucking mining ok ragazzi I'm coming back to my trip to the nether insomma abbiamo fatto un bel po' di mining abbiamo 1,2,3 stack 4 stack così 19 cobalt e 13 ardite questo martello è troppo op per minare nel nether cioè ti fa prendere quantitativi di cobalt e di ardite inimmaginabili in tipo 10 secondi troppo op oh holy shit c'era un muro e allora facciamoci un buco nel muro perché i muri mi sanno sulle palle prendiamo che quarzo si quarzo all the quarzo vedete io sono stato così tipo una ventina di minuti a scapare come un pazzo ho buttato via tanta di quella nether che non ve ne immaginate ho ottenuto uno zainetto pieno di 15 stack e poi ne ho buttata via penso altrettanta se non di più infatti appena arrivo a casa credo che farò un martello per questa cosa perché ne ho troppissima non potete nemmeno capire il quantitativo di netherrack e si insomma GG e tu ho la bam better barrel lo mettiamo qui prendiamo tutto il nostro netherrack e poi prendiamo questo bene GG 24 stack di netherrack holy shit e prendiamo un po' di stack di cobblestone che ne abbiamo pochi per il nostro branch mine e finiamo di aprire la nostra spada allora sto usando tutti gli slot che mi rimangono su questa spada lo so I know il cobalt l'ho messo giù ne sotto nella fornace a cuocere non preoccupatevi non l'ho perso e sto finendo gli slot appunto quindi non potrò mettere un auto repair o una cosa del genere per ripararlo e in realtà potrò perché io sono magico e perché ho in mente appunto come avrete già capito di aggiungere altri modifier perché si possono aggiungere con dei piccoli trucchetti altri modifier in maniera del tutto legittima e uno dei quali sarebbe un blocco d'oro e un diamante che però non andrò a fare adesso perché i diamanti non sono 10 mentre un altro se non erro sbaglio è quello del appunto vedete diamante e blocco d'oro una golden apple e un blocco di diamante e una nether star e queste cose qua che sono della creativa credo vero? fonda creative esatto fonda creative e quindi si sarò costritto a utilizzare il blocco d'oro e la come minghia si chiama il blocco d'oro e il diamante su tutti i miei strumenti sui quali voglio mettere la recharge quindi questi tre li userò perché voglio mettere la possibilità di ricaricarli con holy shit 44 lingotti voglio mettere la possibilità di ripararli con la la corrente insomma di ricaricarli con la corrente allora vediamo cosa che voglio voglio assolutamente una shovel head di manilum una ascia di manilum no scherzo e una pala excavator broad axe excavator questi qua li voglio assolutamente tutti quanti di cobalto quindi bam excavator bam ascia x y avviato geometry dash e bam pala quindi andiamo a craftarli tutti insomma vi farò solo vedere i crafting perché penso che scusate perché penso che ormai ne avete vista filtro patinker contract o sbaglio quindi alluminum brass questa cosa non è necessaria cioè non sarebbe di per sé necessaria perché insomma sto creando degli strumenti che useremo poco come la pala e l'ascia nel materiale più costoso possibile come di quello che sarebbe da usare per il piccone insomma ecco però sapete una cosa noi possiamo e proprio giusto per la soddisfazione cosa ho fatto l'ascia si quindi adesso facciamo l'excavator proprio giusto per la soddisfazione di farlo noi possiamo proprio la soddisfazione di spaccare il culo noi lo facciamo fa il culo step one ecco qui la nostra pala di puro manilum si merlo shawel bam che adesso non la non la griderò perché non credo che mi serva però cg insomma quindi possiamo togliere la nostra pala sfigata da qui a prenderla al muro del non ritorno e si abbiamo una pala di meli lungente forse la prenderò con un po' di redstone ma no ne abbiamo poca non serve it doesn't matter poi allora mi servono due plate di cobalto e voilà ragazzi anche l'ultimo pezzettino delle due strumenti principali che voglio fare ora è completato non sono sicuro se voglio fare anche un'ascia di precisione tipo questa per esempio pulire il legno e roba così ma non credo ma allora siccome ci devo come dicevo ci ho riflettuto per ora non farò un'ascia di precisione come questa per tagliare il legno così farò una lumber axe che vi farò vedere fra un attimo come funziona eccola qua merlo axe sbada boom e fatterò un excavator don't feel the panic about the excavator you should merlo vator dan dan bam eccoli qua questi sono tutti strumenti se possiamo dire così gemelli del nostro martello anche se il nostro martello è molto più sexy perché l'ho fatto più sexy perché il martello deve essere più sexy degli altri sono praticamente la stessa cosa del martello solo che sono una pala e un'ascia ovvero questa pala scava tre per tre come il martello mentre la nostra pala questa scaverà uno per uno al contrario del martello il piccone ecco insomma faccio subito dimostrazione pratica tra il resto guardate la nostra cutlass creeper one shot one shot perché non l'ho one shotato l'ho lasciato con mezzo cuoricino probabilmente one shot ecco allora vedete excavator tre per tre pala normale uno per uno gg e poi lumber axe taglia tutti gli alberi adesso e non riesco a farvelo vedere qui devo andare là è una tre capito praticamente oltre a rompere le assi per esempio tutte le cose che romperebbe un'ascia normale in tre per tre taglia gli alberi proprio sbam tre capito ggwp vada a far un due tre vedete guardate dov'è sbam tre capito non funziona però taglia gli alberi solo un po' più in su stranamente probabilmente è perché ero shiftato o forse perché sono in bat proviamo a toglierci vediamo eh adesso stiamo parlando chiaro e insomma questi sono gli strumenti che voglio fare per adesso dopodiché un altro strumento che mi piacerebbe fare che però purtroppo non abbiamo tempo per farlo oggi è un arco della tinkers construct questa però è un'altra storia perché per intanto siamo messi perfettamente bene con i nostri strumenti della tinkers construct quindi per adesso va bene così off camera io crafterò questo arco e le fricce perché le fricce sono una parte importantissima dell'arco della tinkers construct e dal prossimo episodio comincieremo a usare questo arco e comincieremo a entrare nelle mod tecniche per poter mettere la ricarica elettrica su tutti i nostri strumenti della tinkers construct per fare in modo che non li prendiamo mai e per diventare ancora più super mega pro OP madonne quindi mettiamo via tutto e per questo episodio è tutto progressi indescribili dallo scorso episodio se contiamo che sono passati due episodi io vi ringrazio della visione vi rimando il prossimo video che caricherò e ciao ragazzi